Il piccolo cimitero teutonico delle mura vaticane a Roma è teatro di un nuovo capitolo sul caso di Emanuela Orlandi per l'apertura di due tombe che potrebbero contenere le ossa della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno di 36 anni fa. È solo l'ultima disposizione sul caso a cui il Vaticano ha dato il via l'11 luglio dopo l'apertura di un'inchiesta interna avvenuta lo scorso aprile. L'ultima indagine archiviata e condotta insieme alla magistratura italiana è quella relativa al ritrovamento di alcune ossa umane all'interno della sede dell'Annunziatura Apostolica in Italia. Una vicenda è risolta, quella della giovane inghiottita dalla capitale il 22 giugno dell'83, i cui segreti si trascinano da sempre e che ha portato all'apertura di una serie di inchieste della magistratura italiana e ad alcuni finoni internazionali. La storia si è arricchita anche dalle indagini giornalistiche, l'ultima delle quali ha riguardato lo stesso Vaticano con la scoperta di un documento che lo coinvolgerebbe. I due sepolcri in esame riguardano ufficialmente la sepoltura di due principesse morte a metà del 1800, ai quali si è arrivati in seguito all'indicazione di una lettera anonima. E le operazioni da espletare sono la datazione e l'esame del DNA.